I minenti inaugurazioni di opere pubbliche si terranno nei prossimi giorni nella città di Agropoli, fra questi il taglio del nastro avverrà in piazza Mediterraneo, ex piazza Mercato. Altri quattro importanti progetti invece saranno avviati per la fine del 2019 e interesseranno la scuola e località mattine, il campo Polito e due finanziamenti saranno invece destinati al porto turistico agropolese. Noi abbiamo due inaugurazioni che sono a portata di mano, tra pochi giorni vi comunichiamo i miei giorni in cui verranno inaugurate il comandamento di piazza Mediterraneo, per intenderci l'area del cineteatro Palazzetto, i lavori sono terminati e come dicevi tu la caserma della Guardia di Finanza, quello è un evento molto importante a cui teniamo moltissimo perché credo sia un segnale importante. Naturalmente altri lavori sono in corso, la scuola a mattine che sta per cominciare, i lavori di riadeguamento e rifunzionalizzazione del campo Polito, anche lì un finanziamento per mettere il tappeto, ci sono due interventi al porto che dovevano cominciare l'escavo, come abbiamo sempre detto, per guadagnare profondità nella nostra area virtuale e anche sistemazione, un finanziamento dove sistema marciapiedi e ridà un restyling al porto stesso. Sono questi i quattro lavori che partiranno nel breve volgere della fine dell'anno, sperando che la consegna sia fatta poi nell'anno successivo, quindi sono altre quattro opere. Intanto stiamo lavorando per finanziare altre opere importanti. Ci teniamo comunque ad annunciare anche una riorganizzazione e rifunzionalizzazione del nostro parco pubblico dove verrà sistemata tutta quanta l'area, chiusa per dare una maggiore tranquillità agli utenti e il posizionamento di nuove giustrine che consentono alle nostre famiglie di portare i propri figli in tranquillità in un luogo nuovamente degno. Non è un intervento di grande importo in termini economici, ma penso di grande importanza in termini di visibilità e di servizi ai nostri cittadini. Ci auguriamo che i lavori cominceranno già entro la fine del mese di settembre e in poco tempo cercheremo di terminarli. Infine, come sapete, abbiamo completato i lavori della scuola di Via Verga, quindi il secondo circolo, come è programmato, tornerà alle attività nella struttura precedente. Abbiamo quasi completato i lavori della facciata della scuola Landolfi, lato Via Pio X, e quindi consegneremo tutte le scuole in perfetta efficienza per l'apertura del 16. Si continua a lavorare con grande determinazione, cercando di dare al meglio i servizi ai nostri cittadini.